Sapete tutti che in questa chiesa è stato fatto un buon corso per aver gestito il loro modo di gestire. Ci sono stati veramente tantissimi geni e notici che ci sono stati presentati. Il vincitore è qui con noi, è uno studente, un istitutore di Pamonti. E qui ho piacere di presentarvi il vincitore di un nuovo nodo con la scuola, Andrea Bertano. Un grande applauso per lui. Allora, come te lì si manda a parte. Lo ammazziamo. Di una maglietta con il nuovo nodo con la scuola, disegnato e creato da lui. Oltre la maglietta vogliamo organizzare con un avversato di partecipazione e con la conferma della vittoria del concorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.